E così vivono tutti lì dentro? Sì, tranne Nuru e Dusu, che sono tenuti prigionieri dai cattivi. Il maestro Fu non li fa mai uscire. Solo i quami come me, che hanno un padrone come te, possono uscire nel mondo degli umani. Ma non è un po' troppo stretto là dentro? Oh no, c'è un mondo parallelo dentro la scatola. Naturalmente qui fuori è molto più interessante. Voi umani siete così creativi. Ciao, Tikki! Credevo non potessero uscire. Adesso sei tu il guardiano e la scatola è diventata come te, piena di sorprese. È straordinario. Grazie, Tikki. Ehi, Marinette, l'ho fatto per me! È il mio diario segreto! Giorno, è notte! Giorno, è notte! Wow, la musica! Io adoro la musica! Ma ci piano col mio telefono! Giorno, è notte! Oh cielo, dovete venire a vedere! I carri si muovono da soli! Non c'è un solo cavallo che li tiri, oh! Guarda, mamma! Ah, è uno squishy parlante, ma ancora non è in vendita! La città di Parigi si prepara a festeggiare il compleanno del famoso Principe Alipa! Marinette! Oh, Alia! Che ne pensi dei miei nuovi squishy, carini, vero? Quali nuovi squishy? Marinette, siamo creature magiche. Ricordi, nessuno può vederci né in video né in foto. Oh, è per questo che non mi vedo in questi dipinti magici. Giusto! Lei può vedere solo me e io, l'aria totalmente ridicola, vero? Marinette, ascolta, ti senti bene? Ah, ciao ragazze! Sono così felice di vedervi! È il momento perfetto per fare due chiacchiere! Hai parlato di nuovi squishy? Mostraceli! Eh, squishy? Che squishy? Marinette, come ti senti? Come sono finite in quella cornice le tue amiche? Sembrano così carine! Io voglio che sia lei la mia padrona! È già impegnata! Per quale motivo Trix può avere un padrone e noi no? Marinette, sei più strana del solito! Oh, eh, sto solo facendo ginnastica! Ho trovato questo esercizio, eh, un allenamento super speciale! Per essere in forma prima degli squishy! Poi è l'aria aperta, sembri stressata! Aspettate un attimo! Gesticolare bizzarro, farfogliamento ridicolo, strane scuse, goffaggine esagerata! Oh, c'è un rioli da te! Cosa? Oh, certo che no! Luca? 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 Luca?